Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, oggi vi voglio parlare dei risultati della prima giornata di campionato della Serie A 2019-2020. Allora, iniziamo subito. Parma-Juventus 0-1. Questo ve ne ho già parlato di un post... del mio post partita, del mio video precedente. Poi, Fiorentina-Napoli 3-4. Questa è stata una grande partita. Poi dopo me ne parlo di quella partita. Udinese-Milan 1-0. Ma per piacere, guarda te. Il Milan fa perdere tutti la schedina. E non ha mai tirato in porta. Non sono stati concreti. Ha fatto qualche tiro. Il Milan e l'Udinese ha meritato la vittoria. Verona-Bologna 1-1. Un punto a testa partono queste due squadre. Però il Verona ha giocato quasi tutta la partita in dieci uomini. Torino-Sassuolo 2-1. Buona partenza anche per il Torino. Spalla-Atalanta 2-3. Rimonta della Dea dal 2-0 a 2-3. Incredibile. Sampdoria-Lazio 0-3. Parte anche bene la Lazio. Roma-Genua 3-3. Che partita anche questa. Il Genoa pareggia all'Olimpico... Pareggia all'Olimpico perché è stata cinica questa squadra. La Roma ha giocato sempre con la difesa alta che ha preso sempre gol. Cagliari-Brescia 0-1. La neopromossa parte anche bene contro il Cagliari. Sì, grazie al calcio di rigore hanno vinto. E all'ultimo Inter-Lecce 4-0. Contro una neopromossa con tutto il rispetto. Ed era pure in dieci uomini quasi a fine partita in Lecce. Allora, parliamo prima di Fiorentina-Napoli. Allora, sì, la Fiorentina ha giocato meglio assieme al Napoli. Ma ho visto come si era buttato Mertens sul calcio di rigore. Alcuni dicono alla Tania Cagnotto. Poi tutti giù per terra. Pare che sia un tuffatore come l'altro giocatore. Per me un pareggio se lo meritavano entrambe le squadre. Sia la Fiorentina che il Napoli. Sì, la Fiorentina si è assegnato Pulgar. Poi ha pareggiato Mertens. E poi il 2-1 d'insigne che quello non era mai calcio di rigore. Poi ha pareggiato la Fiorentina sul calcio d'angolo con Milenkovic. Poi riporta in vantaggio il Napoli con Cagliar. E poi ripareggia subito la Fiorentina con Kevin Prince Boateng. E poi il 4-3 lo sigla ancora in signe, di testa. E si era chiusa qui la partita. Finisce 4-3 per il Napoli. Adesso la seconda giornata ci aspetta Juventus-Napoli. E speriamo che Sarri si riprenda dopo la polmonite. Poi, passando avanti. Udinese-Milan 1-0. C'è. Il Milan davvero ha cambiato sia allenatore, giusto? Ma ancora non ci siamo. Che non hanno mai tirato in porta questi qua. Ma chi era forse Pachetà? L'Udinese forse abbia giocato un po' meglio questa partita. E con bravura ha meritato la vittoria. L'ha segnata su calcio d'angolo. E' un giocatore molto giovane, che non lo conosco. Poi, andando avanti. Verona-Bologna 1-1. Allora, il Bologna è andato in vantaggio sul calcio di rigore con Sansone. Poi il Verona ha pareggiato sul calcio di punizione, che è stato pazzesco. Andando avanti ancora. Torino-Sassuolo 2-1. Il Torino parte anche bene in questo campionato. Che è andato in vantaggio forse con il gol dell'ex Simone Zazza, di testa. E poi ha fatto il 2-0 Belotti. Sì, ha tirato Belotti grazie alla deviazione di Zazza. E' andato in porta perché è stato spiazzato con Sigli. Poi ha accorciato le distanze il Sassuolo. Poi, andando avanti. Spalla-Atalanta 2-3. L'Atalanta rimonta con una grande prestazione di Luis Muriel. La Spalla stava vincendo 2-0. Pare che aveva la vittoria in pugno, invece no. Sì, l'ha segnata l'1-0 forse di Francesco. E poi il 2-0. Non ricordo come si chiama. Sì, ha accorciato le distanze Gosens e poi con due gol da fuori aria fa vincere l'Atalanta. Il 2-2 di Muriel. Che ha tirato una bomba da fuori. E poi, da fuori aria, Muriel l'ha spiazzato il portiere. 2-3 dell'Atalanta. Bellissima anche questa partita, sinceramente parlando. Poi, andando avanti. Sandorio-Lazio 0-3. Una grande Lazio che vince con facilità, diciamocela. La Lazio è stata molto brava in quella partita. È andata in vantaggio con Ciro Immobile, con un gol in pallonetto col Mancino. Che ha battuto subito il calcio di punizione ed è andata in gol. Poi il 2-0 l'ha siglata l'ex Joaquin Correa. Il 2-0, che non ha esultato rispetto dai suoi ex tifosi. E poi chiude ancora Ciro Immobile, il 3-0 Lazio. Poi, Roma-Genoa, 3-3. È andata tre volte in vantaggio la Roma, ma il Genoa non l'ha voluto scappare la partita. È stato molto cinico il Genoa. Con quattro tiri in porta ha fatto tre gol il Genoa. Non me lo sarei mai aspettato che il Genoa pareggiasse all'Olimpico contro la Roma. La Roma è andata in vantaggio forse con Cengiz-Under. Che ha superato tanti difensori del Genoa, se non vado errato. E poi ha scagliato una botta. Poi ha pareggiato il Genoa con Pinamonti. Ex Frosinone, dai. Poi, il 2-1 di Dzeko. Che anche questo è stato un bel gol. E poi ha pareggiato su rigore il Genoa. Fallo su Pinamonti che è Juan Jesus. Ancora Juan Jesus gioca. Per me è scarso Juan Jesus. E' partito Crescita. Ed è 2-2. La stava parando Paolo Lopez. Gli ha attraversato sotto il braccio. Poi il 3-2 Roma. L'ha siglata con la Rovve sul calcio di punizione. Che la palla ha toccato la travesta. E ha superato la linea di porta. Ed è entrata in porta. Anche questo. Per me l'ha messa all'incrocio dei pali quel gol. Pazzesco anche questo gol. Poi lo ha ripareggio per la terza volta il Genoa con Christian Quamè. Con un bellissimo cross. Con un bellissimo cross. Una specie di arcobaleno che nessuno lo anticipava Quamè. Sotto le gambe di Paolo Lopez. Ed è 3-3. Finisce 3-3 tra Roma e Genoa. E pazienza. Poi Cagliari-Brescia 0-1. Il Brescia ritorna in Serie A dopo forse sette anni. E vince la prima di campionato contro il Cagliari. Alla Sardegna Arena. Grazie al calcio di rigore di Donna Rumma. Hanno annullato forse il gol di Donna Rumma nel primo tempo per fuorigioco. Ma questa volta sul calcio di rigore è buono il gol. I meritati 3 punti del Brescia. Poi l'ultima partita da analizzare. Inter-Lecce. 4-0. Parte bene anche l'Inter di Antonio Conte. La ghiacciande. Sì, l'Inter è forse andata in vantaggio con Marcelo Brozovic. Un gol all'incrocio dei pari da fuori aria. Poi dopo tre minuti arriva il gol di Sensi. All'angolino basso a destra del portiere. Poi arriva il 3-0 forse di Romelu Lukaku che ha tirato da fuori aria. L'ha ribattuto il portiere. Un gol facile. L'ha messa dentro Lukaku. Il primo gol in Italia di Lukaku. Poi arriva il 4-0 di Antonio Candreva. Da una bordata da fuori aria. Il gol più bello di questa giornata diciamocelo. E l'ha messa pure all'incrocio dei pali. È il gol più bello che ha realizzato forse Brozovic. E il Lecce addirittura è andato anche in dieci uomini. Adesso aspettiamo la seconda giornata di campionato. Ma forse venerdì ci saranno i sorteggi. Della Champions. E anche quelli di Europa League. Fare un video forse a parte, dai. Questa è la mia analisi. Di questa prima giornata di campionato. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito di lasciare un like. Di commentare qua sotto. Se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. Se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti cliccate la campanella. Per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Condividete anche il video. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto. E forza Juve. Ciao belli. Scusate se è durato a lungo.